Federico Silvestri, amministratore delegato di 24 ore 20. Assolutamente era uno dei grandi obiettivi che ci eravamo posti, quelli di allargare il target ai giovani ma anche alle famiglie e più in generale a tutti coloro che sono interessati ad avvicinarsi a questi temi. Lo faremo nel Fuoli Festival con tante diverse iniziative, parlando linguaggi diversi, coinvolgendo storyteller che vengono dai mondi più disparati e parlando di argomenti altrettanto robusti però con una chiave di lettura diversa. E poi qualche elemento di intrattenimento perché dopo giornate così ricche e impegnative anche l'intrattenimento, la musica, la cultura hanno sicuramente un significato importante. Beh, avremo sul fronte dell'intrattenimento due concerti di musica classica, uno a cura del maestro Accardo, un altro con un concerto di violini di Stradivari grazie al museo di Cremona, avremo una serata a tema Zelig e avremo un grande ospite, un super top della musica come Mahmood.